La mia idea per lo sport è quella di fare un intercambio di realtà fra gli oratori in Italia e all'estero, soprattutto da dove arrivo, dalla Colombia, paesi sudamericani, per cercare di capire quali sono le motivazioni, i valori, le cose più importanti per i bambini, per i piccoli dove comincia lo sport, dove comincia quella idea di cercare di fare qualcosa nello sport importante, quindi questa è la mia idea, fare un intercambio di conoscenza e di cultura, cominciando dai piccoli negli oratori, sia qua che in Sud America, soprattutto la Colombia. Grazie